Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione finalmente mi sono ripresa quindi si riparte a palla allora oggi sono qui per provare le barrette proteiche di Bulk sapete che io con Bulk non ci collaboro, vi lascio i video che sono usciti per quanto riguarda Bulk giù nell'info box e direi di iniziare subito usciranno due video, il primo conterrà 4 barrette invece il secondo video che vedrete è 5 perché in totale ne sono 9, le ho prese tutte quindi iniziamo da cookies and cream vi dico i valori per 62 grammi quindi per tutta la barretta ha 223 calorie, 8,1 grammo di grassi carboidrati 20 grammi, dico i zuccheri 2,6 fibre 7 grammi, proteine 20 grammi e sale 0,51 grammi andiamo a vederla nel dettaglio ovviamente le barrette in questione sono le macro mangio vabbè l'aspetto è bellissimo io sento proprio il biscotto oreo cioè mi dà proprio quella sensazione mamma mia secondo me sono buone, assaggiamo ma secondo me c'è anche un piccolo strato di caramello wow rispetto al gusto? assolutamente sì, è la prima sensazione che ho avuto proprio oreo cioè presentazione eccellente si presenta proprio come sulla confezione è veramente buona 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 quindi per il momento cookies and cream è super approvata ovviamente alla fine di questo video io vi farò la classifica ma quando vi registrerò anche il secondo video quindi la seconda parte vi farò tutta la classifica secondo ovviamente sempre i miei gusti di tutte e nuove le barrette una cosa che amo no almeno dalla prima barretta poi andremo a vedere le altre tipo quella barretta chimica assolutissimamente no veramente buona bevo e andiamo avanti passiamo allo gusto cherry pequel suppongo che si pronuncia così comunque sono andata un po' a ricercare anche perché era molto curiosa il cherry bequel o bequel cake una variante della una cia volta si ripete tart in cui la crema di frangipane viene ricoperta da uno strato superiore di glassa di mandorla e una mezza ciliegia candita che funge da guarnizione ok quindi tutto blocks sarebbe tipo una mini torta alle ciliegie allora l'odore è fenomenale c'è questa cremina rosa l'odore è veramente buono non mi ricorda un odore chimico assolutissimamente no mi ricorda tanto la ciliegia marena tantissimo proprio mamma mia duro assaggiamo wow ho la pelle d'oca wow io sono follemente innamorata di questa barretta wow se amate come me i sapori diciamo più fruttati rispetto a quelli tutti cioccolatosi vi consiglio di prenderla infatti prima ho dato uno sguardo al sito e li trovate anche in offerta quindi vi consiglio di approfittarne non ci collaboro però sinceramente quando si risparmia fa sempre bene andiamo avanti con il terzo gusto chocolate honey combo quindi sarebbe cioccolato e miele però aspettate che sul sito mi sembra che dava un'altra descrizione l'andiamo un attimo a recuperare lo dice direttamente nido d'ave al cioccolato quindi miele e cioccolato per quanto riguarda i valori stiamo lì è sempre una barretta da 62 grammi ma andiamola a vedere nel dettaglio il miele si sente ma non tanto assaggiamo non mi fa impazzire però vi dico essendo che comunque è miele cioccolato mi aspettavo una bomba dolce proprio quella barretta stucchevole invece no mi ha sorpreso molto però sono sincera rispetto agli altri due gusti che ho provato sinceramente questa qui non mi fa impazzire però devo dire che è molto buono la cosa che apprezzo molto è che sono barrette particolari anzi super particolari ma non sono per nulla stucchevoli e questa è una cosa che io adoro ok proviamo l'ultimo gusto per quanto riguarda questo video il mio video è arancia e cioccolato infatti sì c'è proprio come avete visto uno strato sopra di arancia cioè si vede proprio la cremina e sopra ci sono i propri pezzettini di arancia vediamo andiamo all'assaggio sapete che questo è un gusto che a me non piace però l'ho presa perché comunque vi devo fare la recensione di tutte assaggiamo però mi sente molto l'arancia è di più del cioccolato è l'arancia di niente per i miei gusti non la preferisco perché non mi piace l'abbinamento cioè ci sta bene il cioccolato per i miei gusti che insieme non mi fa impazzire però so che a molti di voi questo gusto proprio questa combo piace tanto quindi sinceramente ve la consiglio perché il cioccolato si sente esteticamente è molto bella il prezzo alla fine ci sta per una barretta proteica io sono sincera preferisco spendere anche 2 euro 2 euro e 50 anche 3 euro per una barretta proteica però so che è una barretta proteica buona con buoni valori il sapore è buono che la riesco a finire e non spendere anche 1 euro e 50 o 2 euro per una barretta che non ne vale la pena è più economica ma poi la vado a buttare perché poi l'assaggio e non mi piace quindi sinceramente io faccio anche questo discorso la mia classifica primo posto ciligia ovviamente secondo posto cookies and cream terzo posto cioccolato e miele e ultimo posto ma non perché non sia buono gusto cioccolato e arancia ovviamente questa è una classifica provvisoria molto provvisoria e io vi aspetto nel prossimo video ma poi ci sarà anche la seconda parte fatemi sapere ovviamente se voi l'avete provata e cosa ne pensate vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video ciao